Fara tappa ad Arezzo il prossimo 15 marzo il Roadshow Italia per le imprese con le piccole e medie imprese verso i mercati esteri, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato da ICE, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo. La manifestazione si terrà all'interno dell'Arezzo fiere congressi. È l'occasione per illustrare alle aziende dell'Aretino, ma non solo, anche delle altre province, le mitrofe a questa, illustrare quello che è l'insieme, il bouquet degli strumenti, dell'opportunità che il sistema paese mette a disposizione delle imprese. Ma poi la parte preponderante sono gli incontri che si hanno tra le varie istituzioni, le agenzie, ma anche le altre istituzioni associative come Commercio, con le imprese durante l'arco praticamente quasi tutta la giornata. Quindi offriremo, a seconda del livello di internazionalizzazione dell'impresa, della sua strutturazione, o la ricerca partner all'estero, appunto di una controparte tramite la nostra rete all'estero, ma anche un'attività formativa. Visto lo stallo del mercato interno, in modo metaforico diciamo che stare ad aspettare sulla soglia il cliente che passa non è proprio il sistema più adatto ad ogni tipo di attività. E quindi guardare all'internazionalizzazione, guardare al mondo, diventa di vitale importanza per la sopravvivenza. E quindi per affacciarsi a questo mercato così vasto, così difficile, così mutevole rispetto all'alternanza dei momenti del mondo economico intervengono le istituzioni, ci sono bisogno dei segnali, dei principi, un affiancamento. E per questo abbiamo pensato di aprirci a questo mondo per dare assistenza a tutte le imprese che le vogliono fare.